Quando siete pronti potete schierarvi, faccio partire, tiratevi, quando sentite il suono potete partire. Ok, è valida. Subito Mischiatti che fa 13.322, il miglior tempo di Manche, adesso però Montecchi 12.857 al secondo giro, 13.2 per Rampini, 13.8 per Sandonini, 14.8 per Monea. Intanto si possono già preparare i concorrenti della 1 a 12. Trascorsi 1.20, Montecchi al comando, seguito da Rampini, Mischiatti, Sandonini, Monea, questa è la classifica già sui tre migliori giri. Montecchi ha anche il miglior giro, è l'unico a essere sceso sotto i 13 secondi. 12.8 per lui, 13.0 per Rampini, 13.1 per Mischiatti, 13.4 per Sandonini, 14.4 per Monea. Trascorsi due minuti e quindici. Ricordo che nelle prove controllate e nelle qualifiche non verranno chiamati i doppiati, ma i concorrenti più lenti dovranno dare strade più veloci senza ostacolarli. cercate di guidare corretti. due minuti al termine, trascorsi tre minuti, sempre Montecchi, Rampini, Mischiatti, Sandonini, Monea, questa è la classifica. Comunicazione di servizio. Chi vuole prenotare la pizza, ho pregato di andare in giuria adesso per prenotarla. ripeto, chi vuole la pizza, per andare in giuria a prenotarla. Grazie. Grazie. Intanto manca un minuto al termine, si possono già preparare i concorrenti della 1-12. Chi ha appena corso dopo andrà ai recuperi. condizioni immutate, Montecchi, Rampini, Mischiatti, Sandonini e Monea, questa è la classifica. Chi ha appena corso dopo andrà? Siamo quasi allo stop Mancano 10 secondi Stop al tempo in questo momento Avete tutti quanti 3 minuti lo stop quando arrivate Stop a Monea Stop a Mischiatti Gli altri sono già fermati Forse sì Ok Appoggiate le macchine E portate i recuperi Per essere il tavolo Il tavolo all'uscita del palco Appoggiate le macchine e le radio E andate subito ai recuperi Grazie a tutti Numeri a casa. Sì, cercate di distribuirvi, tanto la pista è già aperta per 1.12, sì, no, manca 1.15 al via ma se volete schierarvi prima ditemelo. Ora si recuperi, posizionatevi. Mancherebbe almeno una persona in fondo al 2. Siete in pochi purtroppo, se no tu vai bene lì. Ok, se siete pronti partiamo. Ok, valida. Subito 11.4 di tolomelli, 11.6 di... Vediamo un attimo, c'è un transponder che non mi torna. Vediamo chi è. La macchina bianca sul traguardo in questo momento, chi è? Sei tu. Ok, dovete rispondere il tuo. Ok. 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 ashingeras. Ok. Ok. Romelli, Mazzini, Galli, Bianchi il pugno mi cerito di traspondere adesso perché era sbagliato il suo spazio da scorsi due minuti e venti Romelli, Mazzini, Meccuni, Galli, Bianchi intanto si possono preparare già i concorrenti della FWD batteria 1 FWD, attenzione sotto al palco ok, libero Romelli, Mazzini, Meccuni, Galli, Bianchi, Neri questa è la classifica Neri non è partito 1 e 10 al termine Romelli, Meccuni, Mazzini, Galli, Bianchi questa è la classifica è la classifica è la classifica mancano 25 secondi alla fine sempre possibilmente grazie tutte le macchine vanno schierate in corsia box per partire ok, stop a Tolomelli ma è terminata e appena corso si porta ai recuperi e appena corso si porta ai recuperi quindi vista aperta intanto per la FWD due minuti e mezzo al via ma se siete pronti possiamo partire anche prima mancano solo tramelli adesso perché dobbiamo andare alla prenotazione un po' male tutto è male grazie grazie sul palco sul palco qualcun altro vuole la pizza? quelli che siete sul palco ok, va bene no chi fa i recuperi qualcuno vuole la pizza? nessuno? buono ok, perfetto al suono è valido do lo start e partite quando volete ok ok, valida grazie grazie Alberto grazie 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 Carpognani immobili ferri tramelli crupi rapiti piluzza e fabbri anche la civica cambia di continuo hanno completato tutti i tre giri in questo momento il comando Carpognani 14.092 ferri 14.530 Carpognani ha già scavato un bel sui molto buon tempo mezzo secondo su tutti gli altri poi rapiti 14.4 14.5 di immobili 14.6 di crupi 14.6 anche di tramelli 15.0 di piluzza 15.1 di infatto tanto si può già preparare la GT 1.10 sempre Carpognani adesso ferri fa il secondo tempo 14.2 si porta a due dalle decimi del tipo di campognani 14.4 per rapiti poi 14.6 di immobili 14.5 di grupi 14.6 di tramelli 14.7 di fabbri 14.9 di piluzza nascorsi due minuti e venti metà manci in questo momento due minuti e mezzo di gas andiamo a vors Equale 25.2 metà manca 13-9-8-9 di Carboniani l'unico a scendere 14 si porta in seconda posizione Rabitti poi Ferri, Movilli, Grupi, Tramelli, Fabri, Piluzza Carboniani ha 4 decimi di vantaggio sul secondo il giro secco non sono pochi manca 1.15 al termine si possono già preparare i concorrenti della GT1-10 non sono pochi siamo entrati nell'ultimo giro quasi per tutti andiamo un attimo stop al tempo in questo momento stop a Ramitti stop a Immobili stop a Grupi stop a Carboniani stop a Ferri stop a Fabri stop a Piluzza ok ma è terminata al via la GT1-10 trascirecuperi che appena corso che appena corso non sono pochi ma è tornata la GT1-10 la GT1-10 che appena corso non sono pochi ok Alvia Berselli Campana del Vecchio Ferri Gigliotti Sassi e Rabitti pista è aperta tre minuti Alvia siamo un po' in anticipo Sassi e Recuperi chi ha appena corso Mancano solo Ferri e Rabitti alla prova Trasponder ok Rabitti c'è tranquillo tanto mancano due minuti siamo in anticipo aspetto tutti puoi girare tranquillamente attenzione che sono già schierati gli altri però siamo in anticipo di quasi due minuti lasciamo fare due giri poi diamo il via attenzione che ci sono le macchine schierate ok hanno segnato tutti rispondere a posto ricordo che partite quando do il via partite tutti insieme quando volete ok siamo pronti partita eh non so perché ho sentito il via ragazzi ragazzi chi ha appena corso deve portarsi a Recuperi camponiani non lo vede camponiani là ma cercate di distribuirvi un po' tutti quanti qua mancano delle persone i Recuperi forza ragazzi anche se sono prove libere i Recuperi ci vogliono che appena corso nell'FVD andare i Recuperi grazie ora intanto abbiamo al comando Ferri seguito da Rabiti campanico a sto momento Ferri, Rabiti, Gigliotti del vecchio Sassi e Berselli Ferri, Campana, Rabiti Berselli, Gigliotti Sassi del vecchio questa è la classifica intanto si può preparare anche la prima batteria della stop 13 e mezzo batteria 1 ragazzi girate corretti non vengono chiamati i doppiati le persone più lente però chi va più piano deve dare strade più veloci e non ostacolarli grazie Alberto Tecchi puoi venire qua su un attimo per favore quello lì è il legno che ne va a dargli contro è il legno che si sposta lui sa bene 45 veloci e Ok, adesso va. Intanto sono trascorsi tre minuti e dieci al comando Ferri, Sugigliotti, Campana, Berselli, Rabiti, Sassi e Del Vecchio. Questa è la classifica, attenzione, ce l'ha il liveo di partenza. Proprio sul trasponder, infatti il tempo a dirlo. Sì, infatti qua. Campana, nonostante abbia fatto solo quattro giri, ha comunque il terzo tempo. Manca un minuto, un minuto in questo momento. Ferri, Sugigliotti, Campana, Berselli, Rabiti, Sassi, Del Vecchio. Corretto, ragazzi, non tirate le macchinate gratuite. Ragazzi, tirate corretti. Se uno arriva più veloce, date gli strati. 20 secondi al termine, si prepari i concorrenti della stop 13,5 EF, a prima batteria. 10 secondi. Entrate tutti nell'ultimo giro, quando passate. Gigliotti prende già lo stop. Gigliotti stoppato. Berselli stoppato. Ferri stoppato. Campana stoppato. Rabiti stop. Sassi stop. Manca solo del vecchio. Ok, maschia terminata. Rientrare e portarsi subito ai recuperi. Il concetto è, non dovete neanche passare dai box. Lasciate le macchine lì e andate direttamente ai recuperi. Mancano tre minuti al via, siamo un po' in anticipo. Comunque la pista è aperta, ho un trasponder che non mi torna, che sta girando adesso. Chi è quello? Sì, però, chi è che sta girando adesso? Leo, sei tu che stai girando? Leo, sei tu quello lì? Sei tu quello lì che sta girando? Non vuoi trasponder sbagliato, non chiamo a posto. Io, sei tu quello lì che sta girando. Sono state gelando? Tregua, sei tu quello lì che sta girando? È quello lì che sta girando. - buono. Ma a passata come pu zona radia? Non, ma a passata. Ti ho sei! Leonardo, Leonardo passa un attimo, Ale fa il passaggio, bene, ok, potete schierarvi se siete pronti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, sono trascorsi cinque giri quasi per tutti, al comando Papa Nicola, seguito da Politano, Finotto, Lonardi, Finotto, Nicolò e Rampini, Luca. Inotto Erika al terzo tempo, Nicolò il quinto, poi Rampini ha fatto solo un zio. Nascorsi due minuti. Politano, miglior giro, 12-8, è l'unico a trascello sotto i 13 secondi. Segue Papa Nicola, 13-1, Finotto, Finotto, Finotto Eric, 13-2, Lonardi, 13-3, Finotto Nicolò, 15-0, Rampini, 23, ha fatto solo un zio. Quando si prepari la seconda batteria a stocchezza, 13-3. Il termine della prossima batteria ci sarà un piccolo briefing e la foto di gruppo, poi partiranno le batterie di qualifica. Il termine della prossima batteria ci sarà un po' di più. Un minuto e trenta al termine, sempre Politano, Nicola, Spapa, Finotto, Eric, Lonardi, Finotto Nicolò. Posizioni stabilizzate, i tempi non migliorano più. Il ripartito Luca Rampini, sembra. Ancora problemi, vediamo un po'. Fai il suo terzo giro in questo momento. 50 secondi al termine, Politano, Papa Nicola, Spinotto Eric, Lonardi, Spinotto Nicolò, Rampini, Luca, che ha fatto solo tre giri. Premi per Rampini, macchina molto instabile. Rampini si ferma e tira la via. 15 secondi al termine. Prepari intanto la seconda batteria a stop trevice e mezzo. Stoppa il tempo in questo momento. Stoppa Lonardi. Ok, macchina terminata. Al via la seconda batteria a stop trevice e mezzo EFRA. Potete salire, la pista è aperta. C'è una scatola bianca con le spine attaccate e c'è un bottone rosso. Ok, pista aperta, potete provare. Due minuti e 45 al via. Ricordo che al termine di questa base ci sarà briefing e foto di gruppo. Manca solo un gridotto che non è ancora schierato, che sta partendo adesso. Ok, trasponde a tutti a posto. Attenzione che ci sono già dei modelli schierati. Comunque siamo in anticipo, mancano ancora due minuti. Se volete girare ancora potete girare. Passi il recupero invece chi ha appena corso. Andate a coprire un po' tutta la pista. Ci sarà bene un recupero in mezzo, al cinque, al sette. Al cinque possibilmente. Ok. Al suono è valida. Ok, potete partire. Recupero. Ragazzi. Scusate, se puoi venire lì in mezzo è meglio. Al recupero, grazie. Al numero nove. Cercate di coprire un po' tutta la pista. Adesso in mezzo è in mezzo. Quindi le prove libero non ho i numeri, quindi non faccio fatica a chiamarli. Cercate di coprirli. Intanto abbiamo al comando Vidotto, Conti, Collina, Collina Mattia, Collina Federico, Arisi. Questa è la classifica in questo momento. Si porta al comando Collina, cibito da Vidotto. Posizioni che cambiano di continuo. Adesso Conti, Collina, Vidotto, Arisi, Collina Federico. 12.591, il giro più veloce di Vidotto. 12.7 di Collina Mattia. 12.6 di Arisi. 12.6 anche di Conti. 13.0 di Collina Federico. Tutti molto vicini. Posizioni che cambiano di continuo. Tutto lasciato al palco. Attenzione. A me si è staccata anche la carrozzeria. Buon'idea. Buon'idea. Collina Mattia è anche il miglior tempo di Manche. Arisi 12.6. Poi Conti, 12.6 anche lui. Vidotto, 12.6. Collina, 12.8. Sono tutti vicinissimi come dentro. Intanto abbiamo superato la metà Manche. Due minuti e venti al termine. Ricordo che ti è interessato che anche su Pustat è visibile in diretta tutta la metà. Si può seguire la gara con le classifiche in sovrimpressione sulle telecamere in pista. Si può seguire la gara in diretta su Pustat.tv. Manca un minuto e mezzo al termine. Grazie. Grazie. Un minuto e mezzo al termine. Collina, Arisi, Conti, Vidotto. Collina, Federico. Collina ha due decimi di vantaggio su Arisi, Conti e Vidotto che girano tutti sugli stessi tempi. 30 secondi al termine. 30 secondi. 15 secondi. 15 secondi. E' entrati tutti nell'ultimo giro. Prendete lo stop quando passate. Stop a Conti. Stop a Vidotto. Stop a Collina. Stop a Arisi. Manche terminate. Sovrimpressione. Stop a Parisi. Grazie. 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 Forza in pista per la briefing e foto di gruppo, grazie. Andiamo, gente. Andiamo, forza. Forza, andiamo, gente. Tutti in pista. Briefing e foto di gruppo, veloci. Forza, dai. Piano di sopra. Dentro di box, forza. Vidotto, dai, pista. Fuz, fuz, fuz. Andiamo, gente. Dai. Ci siamo? C'è qualcun altro? Ragazzi, stringete un pelo, che non ci state. Adesso devo comprare un telefono più grande. Allora, grazie a tutti. Il petta, un attimo, grazie a tutti di essere qui oggi. Prima tappa dell'Indoor, Italian Indoor Series. Sono quattro gare, come sapete, da qui arrivare a febbraio. Tre gare saranno tenute validi e ci sarà uno scarto. Ogni gara verrà segnato un punteggio. Il nostro vecchio e famoso punteggio 83-77, vi dicendo. Comunque, sul nostro sito c'è regolamento e c'è tutto. Quattro gare, ne vengono tenute buone tre. A fine gara ci sarà la premiazione con materiale e quello che riusciamo a ottenere. Detto questo, la gara di oggi, come le altre gare, tre qualifiche, una buona, tre finali, due buone. Si sale, si corre, si scende, si scende di là, si mette la macchina sul tavolino, per chi è la prima volta che ne qua, si mette la macchina sul tavolino e si va direttamente a fare il recupero in pista. Altre cose? Ah, categorie FWD e GT, come già detto, le gomme che vi sono state date stamattina, tenete il sacchetto col nome, ce le restituite a fine gara, saranno custodite qua da noi. La prossima gara vi vengono ridate e usate quelle lì. Oppure uno può anche spostare tutte le volte gomma nuova a sua discrezione. Chiaro per tutti? Buona gara a tutti! Grazie! 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 3 tre numeri tre numeri e visibili vetro anteriore e fiancate tre numeri sui modelli 4 3 3 4 5 5 6 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanto mancano otto minuti e mezzo al via per Montecchi, Rampini, Mischiati, Sandonini e Monea. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricordo che i numeri devono essere tre, uno sul vetro anteriore e due sui vetri laterali. Questo vale per tutti anche nelle qualifiche. Grazie a tutti. 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 Carlo, mettiti lì al 5 dai, mi serve una persona sotto al palco, possibilmente, Leo riesci a farmi un gruppo piccoli al 9 o dove riesci, c'è andato Carlo, Carlo, sei pur lì, ok, hanno segnato tutti, mancano 30 secondi al via, potete schierarvi, ok, pista è coperta, ok, attenzione, partiamo, via la 1, via la 2, via la 3, via la 4, via la 5, tanto si possono già portare alle veritiche i concorrenti della 1 a 12, ovvero Mecuni, Tolomelli, Mazzini, Galli, Bianchi e Neri, conduce Montecchi, Surampini, Mischiatti, Sandonini e Monea. Siamo a regolare, sono tutti sgranati, non ci sono, nessuno si sta ostacolando, ci porta però il comando, Mischiatti in questo momento, su Montecchi, ma sono molto vicini, staccati di un decimo, adesso Mischiatti, Rampini, Montecchi, tutti in 8 decimi, ricordo sempre di dare strade i concorrenti più veloci, non ostacolatevi, se uno vi sta raggiungendo vuol dire che va più forte, dagli strade anche se non siete doppiati. grazie, corretti. Trascorsi due minuti, Mischiatti, Rampini, Sandonini, Montecchi, Monea, questa è la classifica, Mischiatti a 1 secondo e 6 su Rampini, 1 e 7 adesso, poi a 3 secondi e 7 su Sandonini, posizioni abbastanza delineate in questo momento, problemi per Montecchi che si ferma un attimo un po' di prende, supera la numero due sotto al palco, ok, perfetto. siamo a metà manche, trascorsi tre minuti, sempre Mischiatti, Monea, Sandonini, Rampini e Montecchi che si è dovuto fermare, vedo già pronti i concorrenti anche della 1 a 12, intanto guardiamo i giri, l'unico a essere sceso sotto i 13 è Mischiatti con 12,9, poi 13,3 di Sandonini, 12,9 adesso anche di Rampini, poi Monea 13,3 e Montecchi 13,0. Grazie. 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 Un minuto e venti al termine, posizioni immutate, sempre mischiati, Sannonini, Monè, Rampini, Montecchi e Fermi. D'accordo che al termine della gara si scende dal palco, dalla parte di sinistra, si consegnano i modelli sul tavolo che c'è sotto il palco e si va direttamente ai recuperi. 30 secondi al termine. Stop a Rampini, stop a Mischiatti. Sto passando Nini, manca solo Monea. Mischi terminata. Un attimo di attenzione, una cosa che mi sono dimenticato di dire al briefing. Domenica 30, quando c'è il campionato italiano della GT12 e 1.12, c'è anche la categoria FWD, GT e TT Club. Perciò chi vuole partecipare alla gara non è volevole per i campionati italiani. Il campionato italiano è solo per la GT12 e 1.12. però di contorno c'è anche l'FWD, la GT10 e la TT. Ok, la pista è aperta, manca solo Bianchi a passaggio. Ok, l'ho segnato tutti, 1.40 al via, ai recuperi che ha appena corso, ovvero Montecchi, Rampini, Mischiatti, Sandonini e Monea, ai recuperi. a tutti. Eh, dite, stai lì, fori io al nome, manca uno sotto al pacco, che adesso c'è ascolto il vallo. ma tu stai lì, va bene, mancherebbe uno qui, passate in pochi, ok, potete schierarvi, ok, tirate a modo, ok, siete punti, via Mecugni, via Tolomelli, via Mazzini, via Galli, via Bianchi, via Neri, partiti i missili, subito 11.9 di Tolomelli, 11.5 di Galli, 12.0 di Mazzini, 11.7 di Mecugni, 10.9 anche di Neri, sai che queste saranno le ultime gare con il 6.5, quando tirerete poi col 3.5 dopo, stati buchi nella mochetta, scorsi 45 secondi, sempre Tolomelli, 7.10 su Mazzini, Galli a 1.10 da Mazzini, poi Mecugni, Neri e Bianchi, tanto si possono preparare i concorrenti della FVD alle verifiche, fino adesso tutti corretti, hanno dato strale più veloci, non sono stacolati, bravi, 10.7 di Tolomelli, il miglior giro di mai, 19.9 di Mazzini, 11.3 di Galli, 10.7 di Galli, 10.6 di Mecugni, il miglior tempo di mai, attenzione, attenzione, non ho fatto in tempo a chiamarlo, troppo veloce, scorsi due minuti, ancora sei minuti al termine, è lunghissimo ancora, Tolomelli, Mazzini, Galli, Mecugni, Neri e Bianchi, Benedetto, no ho fatto in tempo a chiamarlo, troppo veloce, Sono un po' stabilizzati, comunque ben quattro concorrenti sono scesi sotto gli unici secondi, è veramente un bel andare, il veloce rimane sempre Becuni con 10,6, 10,7 di Tolobelli, 10,8 di Mazzini, 10,9 di Neri, questi sono i più veloci sul giro secco. Nella classifica vede Tolomelli con un secondo e tre su Mazzini, tre secondi su Galli, poi Mecuni, Neri, Bianchi. Siamo ancora arrivati a metà manche, siamo quasi, sono quattro minuti in questo momento, metà manche adesso, ancora molto lunga. La gara è tiratissima. Grazie per la seconda posizione tra Mazzini, Mecuni e Galli, tutti abbastanza vicini, Tolomelli ha un buon marco sugli altri. Allora, sono già pronti i concorrenti della FWD. Attenzione, rettilineo, ok, è libero, è libero. L'errore di Mecuni sul dritto, ma riparte. L'errore di Mecuni, la macchina numero 4 di Galli. Dolomelli ha un buon marco sugli altri. Il città numero 4 di Galli. Da's. Da, due. Da, due. Da, due. dolomelli lecuni e mazzini che sono molto vicini poi neri bianchi galli fermo due minuti e venti al termine ma è già velocissimo adesso grazie 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 10 al termine dolomelli mazzini meccuni neri bianchi 50 secondi al termine produce sempre tolomelli guardiamo il distacco di mazzini e mazzini ha un giro tolomelli ha un giro su tutti gli altri adesso bel vantaggio come detto tolomelli sta facendo veramente una gara a sé non è tanto più veloce degli altri ma è molto costante stiamo per entrare nell'ultimo giro per vari concorrenti mancano 15 secondi al termine stop a mazzini stop a tolomelli stop a bianchi stop a meccuni manca solo neri ok mai terminata grazie intanto Mecuni, Tolomelli, Mazzini, Galli e Bianchi ai recuperi neri non lo può fare motivi fisici quindi se ci fosse anche un volontario sarebbe una bella cosa ci vorrebbe anche una persona che mi metta fuori le manche che mi esponga le manche le stampe delle manche la sponda l'hanno segnato tutti Danilo vuoi guardare se ci sono le stampe delle manche e le metti fuori perché ci mancano ok guardiamo un attimo mancherebbe un recupero sotto al paico c'è un volontario perché c'è Mario Neri che grazie Mario Neri che non lo può fare perché ha dei problemi alla schiena grazie mille ok siamo pronti al suono è valida via Carboniani via Rabitti via Immovilli via Ferri via Crupi via Tramelli via Fabri via Piluzza Tanto possono già portarsi alle verifiche i concorrenti della GT 1 a 10 Abogliani fa subito segnare 13 a 9 subito pronti via secondo giro l'unico a scendere sotto il muro l'unico a scendere sotto tutto il mondo Grazie a tutti. Grazie a tutti. I clienti devono andare in strada ai più veloci se vengono raggiunti, anche se non sono doppiati. Non ostacolatevi, per adesso state guidando veramente bene. Grazie a tutti. Le posizioni sono stabilizzate. Carboniani, Ferri, Fabri, Tramelli, Raviti, Gruppi, Movilli, Piluzza. Carboniani ha già 4 secondi e 7 su Ferri. E Ferri ha 9 decimi su Tramelli. Invece ha solo 53 centesimi su Fabri, quindi la lotta è per la terza posizione tra Tramelli e Fabri. Grazie a tutti. 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 1.20 al termine. Sempre Carboniani, Ferri, Raviti, Fabri, Movilli, Tramelli, Gruppi, Piluzza. Ricordiamo che la classifica non sarà round by round, ma sarà la miglior manche delle tre. per prendere solo la miglior manche delle tre, per i giri di tempo. Grazie a tutti. Mancano 35 secondi. Preparino già i concorrenti della GT. Ricordo che appena finito i concorrenti della FWD devono consegnare il modello per portarsi subito ai recuperi. stop a Carboniani, stop a Filuzza, stop a Ferri, stop ai Movilli, stop a Rabiti, stop a gruppi, stop a tutti stoppati, manche terminata, fermarsi, consegnare i modelli, portarsi ai recuperi. Buon appetito. Buon appetito. Bene. ricordo alle verifiche di controllare anche che le macchine abbiano tutti e tre i numeri che vadano bene c'è una macchina che non ha i numeri non so perché non c'è qualcuno voi siete sbagliati c'è una macchina 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 via Ferri via Gigliotti via Campana via Perselli via Rabitti via Sassi via Del Vecchio via 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 Per chiamare la carrozzeria è la macchina numero 3 a posto, tanto si possono già preparare alle verifiche i concorrenti della prima batteria stop 13,5. Noto che in questa batteria abbiamo Rabitti che si è iscritto con 3T, quindi Rabitti al cubo, Rabitti a 3T, Rabitti Enrico al cubo, intanto stiamo per entrare negli ultimi giri per alcuni concorrenti, stop a Berselli, stop a Campana, stop a Gigliotti, stop a Sassi, stop a Rabitti, manca solo Ferri, manca solo Ferri allo stop, ok, match terminata, portarsi fanno faccio che si arriva in Italia, non posso farlo, non posso farlo, non posso farlo, non c'è fuori Democratino, non può farlo allora adesso partono Papa Nicola, Spinotto, Lonardi Spinotto, Nicolò, Rampini, Luca e Torreggiani che non si è presentato mi dice che vai? Vai perché se no se tu mi fai stai aperta, mancano un minuto e cinquanta al via posizionarsi, recuperi ai recuperi vanno i concorrenti della GT1-10 ovvero Ferri, Gigliotti, Campana, Perselli Rabitti, Sassi e Del Vecchio ai recuperi, cercate un pochino di posizionarvi in pista anche non in base al numero per coprire tutto che direi che più o meno siamo coperti siamo già coperti siamo in anticipo, manca ancora un minuto al via mancano i due finotto alla prova trasponde 50 secondi al via si, si, si tranquillamente abbiamo ancora i due finotto che non hanno girato quindi potete provare tutti e due ok, la pista è ancora aperta mancano 30 secondi al via chi è pronto può già schierarsi ok, fate l'ultimo giro poi vi schierate ok vi chiamerò per nome così facciamo meno confusione ok siamo pronti manca un numero proviamo un attimo raccomando controllare sempre di avere tre numeri uno davanti e uno su ciascuna delle fiancate possibilmente sul vetro in alto che si vede meglio ok ok siamo pronti via Papa Nicola via Eric Finotto via Lonardi via Nicolò via Rampini Luca via ok a posto non c'è non c'è siamo pronti Nicola, seguito da Finotto, Eric e Finotto Nicolò. Vediamo che tutti competino almeno un paio di tiri per dare una classifica un po' più definita. Papa Nicola, Lonardi, Nicolò Finotto, Eric Finotto, Campini Luca, questa è la classifica. Papa Nicola, se l'unico a essere sceso sotto il muro dei 13 secondi, 12.9, 13.4 per Lonardi, 14.6 per Finotto Nicolò, 13.1 per Eric Finotto, 14.6 e 14.4 per Rampini. Lonardi era in seconda posizione ma ha fatto un paio di errori, guardiamo, mantiene comunque la seconda posizione, anche se è piuttosto lontano da Papa Nicola, tanto si possono preparare i concorrenti della seconda batteria scoghefa a 13.5 alle verifiche. Alberto, puoi venire con un secondo? Io sono, questa è una cosa. Io sono, questa è la prima cosa. E' una cosa? Io sono, questa è la prima cosa. Sì. il piloto di Colò, questa è la classifica quando mancano due minuti al termine, guidate corretti e non ostacolatevi, i clienti devono sempre dare strada ai più veloci. Grazie a tutti. 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 ragazzi cercate di evitare di macchinare almeno prima di partire oggi è proprio gratis, non è bello ok, siamo pronti, si chiamerò per nome via Mattia, via Darisi, via Conti, via Vidotto, via Politano, via Federico Grazie la GT1 a 12, batteria 2 partirà alle ore 11.53, quindi c'è una piccola pausa alla fine di questo giro di mani intanto conduce Collina, su Conti, Arisi, Vidotto, Politano, Collina Federico 12.208, il giro di Collina che gira circa 3 decimi più veloce di Conti che è in seconda posizione poi c'è Arisi, Vidotto, Politano e Collina Federico, questa è la classifica la scorsa un minuto la volita, la volita è stampa, le avete messe fuori tutte perfetto e recupero a centropista recupero a centropista, attenzione ok la macchina di Politano trascorsi trascorsi 2 minuti e 15 sempre Collina 4 secondi e 3 su Conti 5, Vidotto, 1 secondo e 7 da Conti poi Arisi a 2 decimi da Vidotto poi segue Collina e Politano abbastanza staccato intanto abbiamo superato la metà gara 2 minuti e 15 al termine 2 minuti e 15 al termine abbiamo un po' di tempi 12.208 di Collina 12.575 di Conti 12.543 di Vidotto 12.759 di Arisi 12.273 di Politano 12.885 di Collina un giro velocissimo di Politano ma forse manca un po' la costanza delle prestazioni il tempo è il secondo più veloce dopo Collina quando manca 1.20 al termine un minuto al termine 30 secondi unico correnti stanno entrando nell'ultimo passaggio Collina prende già lo stop gli altri prenderanno lo stop tutti quando passeranno stop a Politano stop a Conti stop a Darisi stop a Vidotto manca solo Federico Manche terminata si riparte alle ore 11.53 con la GT 1.12 son manca solo Grazie. 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 Quattro minuti e venti al via per Mischiatti, Sandonini, Monea, Rampini e Montecchi. Prima Manche, GT 1 a 12. Grazie. Grazie. Quindi possono andare in verifica, Mischiatti, Sandonini, Monea, Rampini e Montecchi. Quattro minuti al via. Grazie. 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 ai recuperi i concorrenti della stock 13 e mezzo EFRA, ultima battitura, Collina, Arisi, Conti, Vidotto, Politano e Collina Fenerico, ai recuperi. Grazie a tutti. 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 Ok, Monea, fai un giro, poi ti schieri, che partiamo. Ok, schieratevi. Via Mischiatti, via Mischiatti, via Sandonini, via Monea, via Rampini, via Montecchi. Tanto possono prepararsi alle verifiche i concorrenti della 1-12. schiatti subito, schiatti subito 12,690, contecchi 13 e 0, Sandolini 12 e 9, 13 e 2 per Rampini, 13 e 4 per Monea. gli schiatti Sandonini a un secondo e mezzo Montecchi a 64 centesimi da Sandonini Montecchi si porta in seconda posizione a un secondo e mezzo da mischiatti e a un decimo su Rampini e due decimi su Sandonini quindi secondo, terzo e quarto ancora molto vicini mentre mischiatti ha già fatto un po' di vuoto Sandonini adesso fa il suo giro più veloce 12.8 in questo giro sono scesi tutti quanti sotto al 13 tranne Monea incredibile mischiatti che ha partito subito a cannone ha fatto 12.6 subito nel primo giro e rimane il miglior tempo di Mange gli altri hanno messo un po' più di tempo per prendere il ritmo adesso Montecchi si è avvicinato molto a mischiatti sette decimi sette decimi da mischiatti ha un secondo di vantaggio su Sandonini nove decimi tra mischiatti e Montecchi quando sono trascorsi tre minuti siamo a metà manci in questo momento grazie a tutti grazie a tutti due minuti e mezzo al termine adesso solo mezzo secondo tra mischiatti e Montecchi stanno girando circa sugli stessi tempi 13.3 tutti e due qualche centesimo più veloce Montecchi in questo giro sempre mezzo secondo tra i due tanto si può preparare la 1 a 12 e li vedo già pronti quasi sono già gli FWD pronti sono velocissimi oggi solo un decimo tra mischiatti e Montecchi adesso Montecchi ha fatto una rimonta notevole è partito in ultima posizione quindi ha dovuto passare tutti e adesso è lì 75 centesimi tra mischiatti e Montecchi sta girando più forte Alberto è quasi un decimo al giro manca un minuto e dieci al termine hanno un po' l'elastico adesso mezzo secondo tra mischiatti e Montecchi giro un po' più lento di Alberto probabilmente ha dovuto fare un doppiaggio poi si riprende subito 72 centesimi tra i primi due e non lotta per la prima posizione quando mancano 45 secondi Montecchi che si porta in comando con 4 millesimi su mischiatti sono veramente vicinissimi correttissimo intanto il numero 5 che da strada Alberto che è in testa in questo momento ma appena detto purtroppo lì è stato un po' l'incomprensione andiamo per entrare nell'ultimo giro per alcuni concorrenti mischiatti, Rampini, Montecchi, Sandonini stop a Sandonini, manca solo mischiatti manca solo mischiatti e si aggiudica la manche su Montecchi, Sandonini, Rampini, Monea grazie a tutti grazie a tutti la questione che ne è già schierata fai da ripartire anche ancora un minuto e mezzo ti mancherebbe un recupero sotto al paico mi schiaffi manca un recupero sotto al paico se c'è un volontario vedo che sono già piazzato insomma vaici tu esatto ho messo dal paico che è meglio va bene, va bene, ok io sono pronto non dica povolina punto vatti, voglio dire ok l'ordine di partenza sarà Tolomelli, Mazzini, Mercugni, Neri, Bianchi e Galli siamo pronti via Tolomelli via Mazzini via Mazzini via Neri via Bianchi via Galli tanto vedo già pronti anche i concorrenti della FVD comando Mazzini con un decimo su Galli poi Mazzini Tolomelli Galli Bianchi Mecugni Neri questa è la classifica ma le condizioni sono ancora tutte da definire sono tutti molto vicini Mazzini con 6 decimi su Tolomelli Mazzini Galli Mecugni Bianchi Neri tutti lì Bologna 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 La scorsa un minuto e venti, dieci sette nove cinque di Mazzini, dieci sette otto sei di Solomelli, attenzione all'ingresso del silineo, ok è libero, undici e uno di Galli, undici e uno di Bianchi, undici e zero di Mecuni, dieci e nove di Neri, Solomelli, Mazzini, Galli Bianchi, Mecuni, Neri, questa è la classifica, un secondo e sette tra Tolomelli e Mazzini, correttissimo l'autostrada, rischiando anche tanto, molto corretto Neri, fin troppo, se non era Mazzini dava una macchinata, ottimo, benissimo, ci sono già i giochi di squadra qua, attenzione sul rettilineo, ok libero, la macchina di Neri che va un po' a zig zag, da scorsi tre minuti, tanto è fermo Mecuni, Solomelli, Mazzini, Bianchi, Galli, Neri, azzamatti. Azzamatti. Grazie a tutti. Solumelli ha 4 secondi e 3 su Mazzini, poi segue Bianchi, Galli neri, anzi Galli bianchi neri. Sessione a centropista. Solumelli ha 5 secondi su Mazzini, poi Galli bianchi neri. Solumelli ha 5 secondi su Mazzini, poi Galli bianchi neri. Alla numero 2 di Dolomelli, anche neri, correttissimo. Due minuti e mezzo al termine. Solumelli per neri, è stato un bel botto. Due 10 al termine, Solumelli, Mazzini, Bianchi, Galli. Adesso Galli bianchi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Stop a Mazzini. Stop a Bianchi. Stop a Galli. Dolomelli deve completare. No, non è finita. Stop a Dolomelli. Ok, portarsi ai recuperi che ha appena corso Alvia, Carboniani, Rabitti, Movilli, Ferri, Gruppi, Tramelli, Fabri e Piluzza FVD Grazie Ok, hanno segnato tutti, manca un minuto e quarantacinque Alvia Se siete pronti possiamo anche anticipare Mi servono però i recuperi della match precedente Ovvero Mecugni, Tolomelli, Mazzini, Galli Bianchi e Neri Neri no, mi servirebbe un volontario se è possibile Mi serve sicuramente una persona sotto al palco Facciamo sotto al palco, ci vuole di sicuro Facciamo gestirci Massimo, Massimo, quello puoi fare qua? Quello puoi fare lì sotto al palco, così prendi tutta la zona lì Grazie Ok L'ordine di partenza sarà Carboniani, Ferri, Movilli, Gruppi, Tramelli, Fabri, Rabitti e Piluzza Siamo pronti Via Carboniani, via Ferri, via Movilli, via Cruppi, via Tramelli, via Fabri, via Rabitti, via Piluzza Ho sentito lo start con la partenza irregolare Necchiamo il perché Abbiamo al comando Carboniani Abbiamo al comando Carboniani seguito da Rabitti, Ferri, Movilli, Dramelli, Gruppo, Piluzzi e Fabri Grazie a tutti 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 Sono trascorsi due minuti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti In seconda posizione adesso con 4 secondi Qui segue Ferri, Tramelli, Gruppi Carboniani, Rapitti, Movilli, Tramelli, Ferri, Gruppi, Fabri e Piluzza Questa è la classifica Quando sono trascorsi, quando mancano due minuti al termine Carboniani ha 3 secondi e 8 su Rabitti più o meno Attenzione, non ostacolatevi Dare strada ai più veloci Giri veloci sono 14.0 di Carboniani, 14.2 di Rabitti, 14.3 di Immovilli, 14.4 di Ferri, 14.4 anche di Tramelli 14.6 di Fabri, 14.4 di Gruppi, 14.5 di Piluzza Correttissimo numero 6, ovvero Tramelli L'autostrada a Carboniani Adesso ho anche Rabitti dietro Tutti abbastanza corretti La Bitti è in seconda posizione ma... Anzi questo... Anzi questo mese passo secondo i Movilli Attenzione, la chicane sotto al palco Attenzione, ok Aspetto Mancano 20 secondi Si possono preparare in tanti i concorrenti della LGT 1.10 Stiamo per entrare Immovilli stop Carboniani stop Tramelli e Rabitti stop Gruppi stop Fabri stop Manca solo Piluzza Tutti stoppati Mai sterminato Fermarsi Portarsi in recuperi Al via Al via Ferri, Gigliotti, Campana, Barselli, Rabitti, Sassi e Del Vecchio Ai recuperi che ha appena corso Al via Carboniani Immovilli Gruppi Tramelli Fabri Piluzza Ci sono due concorrenti che corrono in due categorie in seguito all'altra Mi do Spegni le due ruote motrici prima di attaccare il quadro Prima spegni le FWD Manca uno e quaranta al via tranquilli Non c'è fretta Vai pure Rabitti accesa Allora l'ordine di partenza Attenzione Sarà Perselli, Sassi, Ferri, Rabitti, Campana, Gigliotti e Del Vecchio Mi chiamerò per nome Ragazzi le macchine vanno consegnate sul tavolo dopo il palco Si scende da sinistra e si entra da destra E poi si va direttamente ai recuperi Non è così difficile Un numero Forza recuperi Lo so, lo so Lo so, lo so Lo so, lo so Ok Ehm Ehm Mettiti al nove Mettiti al nove, Carlo che è meglio Ok Siamo pronti L'ordine Lo ho già detto Sii sentiti Berselli, Sassi, Ferri, Rabitti, Campana, Gigliotti e Del Vecchio Via Via Berselli, via Sassi, via Ferri, via Rabitti, via Campana, via Gigliotti, via Del Vecchio Com'è Ehm Ehm Dur supigare Scott Ehm Grazie a tutti. 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 Via Papa Nicola, via Rampini Luca, via Lonardi, via Finotto Nicolò. Grazie a tutti. 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 e... Grazie a tutti. 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 a tutti. 25 secondi. 20 secondi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. stop. a tutti. 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 quindi. a tutti. 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 su. a tutti. a tutti. a tutti. 1. un minuto. a tutti. 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 vediamo. a tutti. 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 si. a tutti. a tutti. a tutti. ho deciso. capo. a tutti. sempre. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. mancano. sta. che. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. si. a tutti. 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 stop. 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 a tutti. . 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 l'unico duello in pista è tra la numero 5 di Monea e Monea e Monea. il Sandonino. I primi due sono già abbastanza sgranati. Alberto ha già il primo dietro. Ok. Perfetto anche il secondo. Ok. Anche il terzo. Buono. Buono. La pista libera per tutti. La scorsa un minuto. Gli schiatti ha già un buon margine. tanti concorrenti della 1-12 possono già prepararsi in verifica. con leader. No. Allora. Non c'è nessun duello, sono tutti molto lontani tra di loro. gli unici sono mischiati i rampini che sono relativamente vicini ma sono staccati sempre di un secondo e due gli altri sono molto più lontani tra scorsi due minuti e quarantacinque sempre mischiati i rampini Sandonini in Monea il tecchio è fermo già dall'inizio praticamente ho l'impressione che effettivamente i rampini abbia guadagnato qualcosina su Mischiatti che sbaglia in questo momento quindi sono veramente attaccati adesso adesso Mischiatti e i rampini sono in lotta nella prima posizione già Rampini aveva guadagnato due decime nel giro precedente adesso è molto più vicino Mischiatti risponde subito guadagna mezzo secondo in questo giro fa un buon giro girano circa sugli stessi tempi sempre attaccati mancano due minuti e quindici al termine ancora molto lunga attenzione numero cinque che ha il primo e il secondo dietro vicini attaccati in lotta bravo numero cinque errore di Mischiatti ne approfitta Rampini che si porta al comando quando manca un minuto e mezzo al termine Mischiatti si è rifatto sotto a Rampini prova a riprenderlo è attaccatissimo lotta per la prima posizione manca ancora un minuto un minuto al termine in questo momento grandissimo sorpasso di Mischiatti su Rampini bravo pulito e corretto sempre comunque molto vicini mancano venticinque secondi al termine mancano dieci secondi al termine vediamo se ce la fanno a passare si sono passati tutti e due ultimo giro ultimo giro per tutti e due stop intanto Monea stop a Sandonini stop a Mischiatti Rampini bravo gran bella gara gran sorpasso portarsi ai recuperi Mischiatti Rampini Sandonini Monea e Montecchi ai recuperi al via al via l'112 attenzione rettilineo modelli lenti attenzione grazie a tutti grazie a tutti Massa hai problemi aspettiamo un attimo che il Massa ha qualche problema vediamo un attimo è successo Mazz? no no aspettiamo ah ok ok siamo pronti al suono è valido gran pacca subito così a gratis fatto tutto lui alto rischio in rettilineo andata bene per Neri intanto Tolomelli se ne va altro errore di Neri problemi ovviamente problemi alla macchina secondo posto è Bianchi poi Mekuni batte anche lui sul rettilineo vediamo posizioni posizioni ben distantiate non sono duelli vediamo solo se il Mek riuscirà ad andare a prendere Bianchi molto veloce ma ha fatto un paio di errori quarto posto poi abbiamo Galli Marcello che lui è piuttosto distante no non ci sono assolutamente duelli in pista sono tutti lontani Galli sta già per essere raggiunto da Tolomelli in prima posizione non è ancora vicinissimo ma sta arrivando bravo Marcello Palomelli oggi è veramente un missile impressionante 10,5 gira a metro secondo più veloce di tutti gli altri veramente scavando un soldo gira costantemente sotto gli 11 secondi è l'unico che riesce due minuti e venti trascorsi intanto è ancora molto lunga piccolo errore adesso di Tolomelli ma un margine enorme secondo posto c'è Bianchi che deve ancora passare sul traguardo passa adesso staccato di quasi 8 secondi dopo solo due minuti e mezzo quindi ha fatto il vuoto Tolomelli meccugni invece si sta un pochino avvicinando a Bianchi è a 1 e 1 adesso due piccoli rorini ancora di Tolomelli ma ha un vantaggio notevole invece è Lecugni che sta cercando di andare a prendere Bianchi adesso Bianchi ha dietro Tolomelli per il doppiaggio anzi no scusate Bianchi ha dietro Mecugni sono in lotta tra di loro attenzione lotta per la seconda posizione tra Bianchi e Mecugni dietro di loro c'è Tolomelli ma è ancora abbastanza distante bravo correttissimo Mecugni nonostante abbia perso il treno di Bianchi ha lasciato passare Tolomelli molto corretto si dovrà fare lo stesso anche Bianchi che ha il primo dietro bravo correttissimo bravo e ha perso anche pochissimo tempo gran bella manovra si ripresenta la lotta per la seconda posizione tra Bianchi e Mecugni che sono ancora attaccati adesso un errore di Bianchi e Mecugni passa secondo e sta arrivando dietro anche Galli che non è molto lontano 11 e 1 nell'ultimo giro ha fatto 11 e 2 neri adesso giro lento Tolomelli continua a avere un vantaggio di un giro e mezzo sugli altri su Mecugni in questo momento poi segue Bianchi adesso è abbastanza staccato non c'è sono 2 secondi e 7 tra Mecugni e Bianchi e 2 secondi e 4 tra Bianchi e Galli quindi non c'è nessun duello in pista mancano 2 minuti e 15 al termine rada libera per tutti 11 e 4 per Neri in questo giro attenzione Mario che è dietro il primo bravo spesso 10 e 8 di Tolomelli ancora adesso con un vantaggio enorme continua a girare sui tempi è un martello ma girare sui tempi pressionanti è raggiungibile per tutti 10 e 7 in questo giro è l'unico che scende sotto il muro negli 11 secondi adesso e lo fa anche costantemente quindi ha un margine enorme 10 e 9 anche in questo giro intanto manca 1 e 10 al termine i concorrenti dell'FMudili vedo già pronti 11 e 4 9 e 3 per Neri l'ultimo passaggio intanto Tolomelli va a doppiare la numero 5 di Galli davanti a lui anche la numero 4 di Bianchi adesso Bianchi è dietro il primo Bianchi che si è un po' riavvicinato a Lecuni adesso non è lontanissimo bravo Bianchi corretto mancano però ormai 18 secondi al termine 15 secondi in questo momento con un paio di giri bravissimo è corretto anche Lecuni stop a Bianchi stop a Galli gli altri sono nell'ultimo passaggio stop a Mecuni mancano solo Neri e Tolomelli stop a Tolomelli stop a Neri ma si terminasse la giudica a Mecuni con due giri di vantaggio che ha su Tolomelli con due giri vantaggio su Mecuni che ha un giro su Bianchi che sono i pendri lineali sul duello a Mecuni a Mecuni a Mecuni a Mecuni Carboniani, Movini, Sferri, Raviti, Tramelli, Gruppi, Fabri, Pinuzza, finale FVD, ai recuperi invece chi ha appena corso, ovvero Dolomelli, Mazzini, Vecugli, Bianchi, Galli più Lonardi. Ricordo, chi fa lo schieramento, cercare di tenere le macchine abbastanza a centro pista perché fuori traiettori, si scivola molto in partenza, quindi non è il massimo, ci sono già stati dei problemi, quindi evitiamo. Leo, Lonardi, vieni qua sotto, vieni qua, vieni qua. Tolo, riesci a metterti a 9 che è meglio, copri tutto lì in mezzo, affetto. Tieni un po' più in mezzo la macchina, lì sei fuori traiettori, si scivola, lo dico per te, numero 3, lì si scivola a partire, stai un po' più in mezzo. Siamo pronti al suono, è valida. Numero 6, regna la posizione della numero 5. Bravo. Tanto, nelle prime posizioni, Cargoniani, Movilli, Ferri, Rabitti, Fabri. l'unico duello in questo momento è tra Ferri e Rabitti, che sono molto vicini, errore di Ferri, sembrerebbe. Questa tutta da solo. Tanto Cargoniani se ne va, anche i Movilli. Vediamo se Fabri riuscirà a prendere Rabitti. Sembra comunque avere qualcosina, forse, in più. Trascorso un minuto e dieci, ci sono dei veri duelli in questo momento, i due più vicini sono Fabri e Ferri. Fabri e Ferri sono in lotta. Con Ferri che sembra avere qualcosina in più. Vediamo un po'. Ah, corretto, esatto, è proprio così. Molto corretto il numero 7. Adesso sono tutti i decidi e tutti in lotta. È formato un bellissimo trenino. 3, 7, 6, 5, tutti attaccati. Tutti in lotta tra di loro. 2 minuti e 15 trascorsi. Stanno un pochino sgranando, sono ancora molto vicini. La lotta è tra la 8 e la 5. Sono i due più vicini in questo momento. Poi la numero 7 che sta cercando di andare a riprendere la numero 3. Sono un po' sgranati. Adesso non ci sono i veri attacchi. Anche se non sono molto lontani, è sul piccolo errore della 7. Si riavvicina la 5 e anche la 8. Il ruolo della 6 che fa tutto da solo. e la 6 ha dietro la numero 1 di Carboniani nel doppiaggio. Bel passaggio della numero 5. Bravo, corretto. La 7 ha toccato la 5. Purtroppo, in realtà, ne ha approfittato la numero 8. Ma lui si è fermato e gli ha dato strada. Quindi, corretto. Il numero 7 è il primo dietro. Ok. Anche la 8 sta per essere raggiunto dal primo. Carboniani dietro. Bravo, perfetto. Carboniani fa veramente un altro sport. Ha un margine enorme su tutti gli altri. Sta per andare a prendere anche la numero 5. Ancora abbastanza lontano. E la 5 intanto, invece, sta recuperando sulla 3 di Ferri. Quindi si lotta per la quarta posizione. Quarta posizione guido perché i primi due sono in lotta, quindi apri davanti da te. Dobbiamo dare strada. Quindi la 5 deve dare strada alla 1. Bravo, corretto. Adesso anche la 3 dovrà dare strada alla 1. bravo, bravissimi, corretti, molto bravi. E adesso si ripropone la lotta tra la numero 3 e la numero 5, l'unico due all'impista in questo momento. Quindi tra Raviti e Ferri è l'occhio. Intanto siamo quasi alla fine. 5 secondi al termine. Ritentrati tutti nell'ultimo giro. Ferri e Piluzza già stoppati. Anche Gruppi e Fabri. Anche i movilli. Ci mancano solo Carboniani, Rabiti e Tramelli. Rabiti stoppato. Carboniani stoppato. Manche terminata. Tutti stoppati. Se la giudica Carboniani. Sui movilli, i rabiti, i tramelli, Ferri, Piluzza, Gruppi e Fabri. Portarsi ai recuperi, al via la GT 1-10. Grazie. Grazie. Berselli, Rabiti, Ferri, Sassi, Campana, Gigliotti, che non corre, ed è il vecchio. Ai recuperi Carboniani, Movilli, Tramelli, Gruppi, Fabri e Piluzza, che ha appena corsa. E intanto possono andare già in verifica anche i concorrenti della stock 13 e mezzo EFRA. Forza, i recuperi Carboniani, i movilli, Tramelli, Gruppi, Fabri, Piluzza, ai recuperi. Vedete che siamo coperti. Se siete pronti potete già schierarvi. Potete schierarvi. Intanto possono già andare in verifica i concorrenti della 13 e mezzo Stock. Cercate di stare un po' a centro pista perché all'esterno la pista è sporca, quindi state attenti, si scivola. Soprattutto nella portazione 2 è abbastanza scivoloso. Mettili un po' più interni perché all'esterno è scivoloso. Sì, 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 sì. Mettili in retro così si prendono direttamente la parte subito e siamo già a posto. Ok. Mettiamo un attimo che fa un controllo. Anche Danilo. Passiamo. Attenzione. Al suono è valida. Ok. Fa tutto da solo. Perselli, Rabitti, fermi. Perselli, Rabitti, sempre in lotta. Ricordiamo la finale precedente, in lotta dall'inizio alla fine, sempre attaccati. Vediamo se si ripeterà anche adesso. Prova subito, Rabitti, ma se li chiude. No, prendere la posizione, ok. Aspetto, corretto. Aspetto, corretto, girare i larghi, girare i larghi. Intanto, anche Ferris è fatto sotto a Rabitti. Sono veramente, sono in tre abbastanza vicini, anche se Bersega ha preso un piccolo margine. Passato, minuto e venti. Ci sono duelli diretti in pista. Tutti sono abbastanza vicini, ma non abbastanza per attaccarsi. Adesso è... Per rendere la posizione, Rabitti. Grazie. Si è formato veramente... gruppo scatenato tra sassi, campane e ferri. California. It's here to come. Buongiorno. La. Begge. Buongiorno. kanwe. Intanto Berselli se n'è andato, è piuttosto lontano stavolta, si è trovato coinvolto un po' di confusione a centro gruppo, adesso l'unico duello è tra Sassi e Campana, anche Ferris è allontanato dai due, tutti abbastanza sgranati, i due vicini sono appunto Sassi e Campana, ma anche un minuto e venti alla fine, ci possono già preparare i concorrenti da tredici e mezzo, li vedo già quasi pronti, ci sta andando di santa ragione Campana e Sassi, comunque Campana gli ha tirato la macchinata, gli ha fatto bloccare la carrozzeria, attenzione che è il primo dietro, Campana, dare strada a Berselli. Mancano dodici secondi al termine, siamo quasi agli stop, siete tratti nell'ultimo giro, stop a Berselli, stop a Raviti, stop a Campana, tutti stoppati, i maschi terminati. Grazie. 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 Allora, ai recuperi che ha appena corso, ovvero Berselli, Rabigli, Ferri, Sassi, Campana, Gigliotti, Gironce e Delvecchio, Alvia, Collina, Conti, Vidotto, Arisi, Collina, Nicola Spapo, Politano, Finotto, Rampi e Lonardi. Grazie. Allora, i recuperi, forza, Berselli, Rabigli, Ferri, Sassi, Campana, Delvecchio, ai recuperi. Grazie. 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 attenzione chi è il numero 5 5 e campana sei là in fondo no ragazzi in mezzo le macchine devo stare in mezzo no no è già la seconda volta che lo dico avevo appena detto devo stare in mezzo le macchine si si scivola se stengo la polizia di là ok attenzione al suone valida prende la cinta ok perfetto la cinta perfetto bravo numero 4 è già il primo dietro bravo lotta alla 5 e alla 6 molto vicini il tutto duello vero in pista in questo momento numero 0 è il primo dietro bravo 5 e 6 avete il primo dietro ok numero 5 è il primo dietro bravo bisogno di truomo rispondi chi fai il primo dietro con i il primo dietro il primo dietro di . il primo dietro è giusto che attenzione numero 5 macchina ferma in traiettoria attenzione tirare via numero 5 centro pista attenzione che fermi traiettoria e si è spostata ok numero 7 è il primo dietro numero 0 è il primo dietro ok 1.20 al termine 11.981 di collina tanta roba tre decimi più veloci 4 lessi più grossi degli altri best lap intanto manca un minuto al termine siamo entrati già nell'ultimo minuto sempre lotta tra la 5 e la 6 6 passa adesso con Mattia che sta arrivando dietro a Conti che è il secondo per doppiarlo quando mancano 30 secondi al termine 20 secondi bravo Carlo adesso c'è anche la 5 e la 6 che avete il primo dietro bravo bravo numero 6 non numero 9 scusa ok intanto siamo entrati nell'ultimo giro stop a Collina stop a Politano Papa Nicola mancano solo Vidotto e Rampini manca solo Rampini ma è terminata bravi Collina ha fatto veramente il vuoto impressionante si parte alle ore aspettate 16.37 quindi esattamente fra un quarto d'ora la finale A della GT12 la terza finale parte alle 16.37 15 minuti la terza finale 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 finale la terza finale finale la terza finale finale la terza finale finale Grazie a tutti. 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 Allora mancano esattamente 5 minuti al via per la GT12 finale A, come potete già andare in verifica. Sono le 16.32, le 16.37 partiamo. GT12 finale A, 5 minuti al via. Ai recuperi i concorrenti della stop 13 e mezzo finale A. Voglio già andare in verifica la GT12, ovvero mischiati, Rampini, Montecchi, Sandonini e Monea. Allora mancano esattamente 5 minuti al via. 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 mancano esattamente 5 minuti al via. Allora 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 cihan montatti al via. Allora mancano esattamente 5 minuti al via. Allora mancano esattamente 5 minuti al via. A 11 minuti al via tre decimi tra i due si vedono molto vicini Alberto si è fatto veramente sotto sta provando sono veramente attaccati mi lascia spazio mi schiatti mi lascia spazio sembra avere qualcosina in più in questo momento Alberto ma fanno un po' le last un giro più forte uno un giro più forte l'altro hanno fatto il vuoto dietro di loro hanno quattro secondi sul terzo e adesso è Rampini Rampini è riuscito a ripassare tutti e riportarsi in terza posizione mischiatti in questo giro guadagna qualcosina e sei decimi adesso il vantaggio un piccolo errore di Alberto guadagna ancora qualcosa mischiatti guardiamo adesso c'è un secondo e uno tra i due è ancora lunga comunque mancano ancora siamo a metà gara poco più di metà gara trascorsi tre minuti e dieci ah errore di Alberto parte subito ma altro errore e adesso lo passa lo passa Rampini Rampini ne approfitta subito era piuttosto lontano ma in un giro ha perso veramente tanto ha fatto due piccoli errori ma gli sono costati cari adesso il secondo Rampini Montecchia è attaccato e mischiatti se n'è andato a quattro secondi di vantaggio mancano due minuti al termine il tecnico ha le gomme da qualifica durate dieci giri poi sono morte intanto sono già pronti i concorrenti del 1-12 manca un minuto e mezzo al termine un minuto e mezzo al termine non c'è un minuto e mezzo al termine ma in un minuto e mezzo al termine manca 45 secondi al termine schiatti adesso ha un vantaggio di 5 secondi su Rampini che ha due secondi su Montecchi posizioni delineate non ci sono duelli 20 secondi al termine 20 secondi adesso stiamo entrando nell'ultimo giro sono tutti nell'ultimo giro mandite tutti gli stop adesso quando passate stop a Rampini stop a Montecchi stop a Sandonini stop a Monea stop a Mischiatti gara terminata se la giudica ancora Mischiatti le ha vinte tutte e tre ok scendete dal palco passate via i recuperi pista aperta per l'1-12 recuperi che ha appena corso è vero Mischiatti Rampini Montecchi Sandonini e Monea non ci sono Grazie. Schiatti, Rampini, Montecchi, Sandonini, Monea, ai recuperi. Forza. Schiatti, Rampini, Montecchi, Sandonini, Monea, ai recuperi. Manca un recupero sotto al palco. E' aperto, vieni sotto al palco. Puoi venire qua sotto che è meglio, tanto lì c'è come lui. Ok, stai lì che è meglio, perfetto. Attenzione al suono è valido. Da parte bene, Mazzini, Colomelli, Mazzini, Mercugli, Bianchi, Galli, Neri. Questa è la classifica al secondo giro. Buonissimo Mario, alla Colomelli. Attenzione, Mario in fondo, è andata bene, è andata bene. Partito in contromano sul trasponder. Arrivava Mazzini, ha fatto un pelo che... Tanto Mazzini e Mercugli sono molto vicini. L'unico vero duello in pista in questo momento. L'unico vero due ore di Mazzini che, vedete completamente, il controllo del resto del video, anche in fondo. C'è qualcosa, probabilmente. E infatti... Colomelli, Mercugli, Bianchi, Galli. Errore anche di Mercugli. Però mantiene la seconda posizione. Dolomelli, Mercugli. Tolomelli, Bianchi, Galli, Mercugli, Neri, Mazzini. 10.508 di Tolomelli. Bianchi è l'unico adesso che gira sotto gli unici secondi, costantemente. Bianchi è già staccato di un giro. Sono Bianchi, Galli e Mercugli staccati di un secondo rispettivamente l'uno dall'altro. Adesso, Mercugli, supera Galli. Ha fatto un errore, Galli. Bianchi, Mercugli e Galli sono abbastanza vicini, ma Tolomelli ha praticamente due giri di mancato. Guarda, è veramente scavato un solo. Vediamo se Mercugli riuscirà a prendere Bianchi. Bianchi ha un secondo a otto decimi in questo giro, gli abbiamo avviato due decimi nell'ultimo passaggio. 1.6, ok. Corretto, la tua strada. Tutti e tre, bravissimo. Bianchi si prende un po' di margine, un secondo adesso su Mercugli e Galli è a un secondo da Mercugli. Sono tutti a tre, più o meno, stessa distanza l'uno dall'altro. Questo invece, Mercugli ha guadagnato tantissimo su Bianchi, gli ha attaccato. Se li è veramente sotto. In giro gli ha guadagnato quasi il secondo. In lotta, in lotta con lui per la seconda posizione. Due minuti e trenta al termine. L'unico duello è per la seconda posizione, ma sono veramente vicini. Bianchi e Mercugli attaccati. Bianchi e Mercugli stanno per essere anche raggiunti da Tolomelli. Il doppiaggio è ancora abbastanza lontano, ma correttissimo, correttissimo Mercugli. Si affianca Bianchi, ma non lo ostacola. Adesso hai dietro Tolomelli. Ok. Ho perso anche un po' di tempo, però ci ha passato a Tolomelli. Bianchi ne approfitta. Manca un minuto e quaranta al termine. Ok. Anche Bianchi da strada. Si ripresenta il duello da Bianchi e Mercugli. Adesso hanno stata libera davanti. Mercugli si è rifatto sotto a Bianchi. Adesso sono ancora attaccati come prima. Intanto la FWD vedo che è già pronta per la pazienza. Provando in tutti i modi, Mercugli attacco su Bianchi. Manca un minuto al termine. Anche Galli si sta rifacendo sotto e ha passato Mercugli. Manca un minuto al termine. Manca un minuto al termine. Errore di Galli e Mercugli ripassa in terza posizione. però Bianchi ormai è andato molto lontano. Mancano 35 secondi al termine. Diciamo che potrebbe gestirlo. Mercugli ha un secondo e tre di vantaggio. Secondo e tre di vantaggio di Bianchi su Mercugli. Mancano 20 secondi. Mercugli faia tra l'altro adesso. Cede la terza posizione a Galli. Neri gira il 12-6 nell'ultimo passaggio. 10-6 come best lap. 10-6 siamo entrati nell'ultimo giro. Mercugli e Neri già stoppati. Bianchi stoppato. Galli stoppato. Manca solo Toromelli. Masch terminato. Masch terminato se la giudica ancora Toromelli. Su Bianchi, Galli, Mercugli e Neri. E allora il via alla FVD. Ai recuperi che appena corsano. ovvero Toromelli, Bianchi, Galli, Mercugli e Neri. E i mazzini. Zio Leo. Zio Leo. Possiamo che ti porti Masraio lì. Così sei ancora più comodo, no? Ti chiamo una brandina. Poi se hai trovato il posto, lì non ti puoi più. E' già in pista la FVD. E' già in pista la FVD. Manca solo Filusa, la prova Trasponder che sta partendo adesso. ok. I recuperi si stanno posizionando. Manca un recupero sotto al palco. Attenzione che ci sono già delle macchine schierate. Manca un recupero sotto al palco. No, per favore. Fallo qua, fallo qua. No, lo fa lui, lo fa lui. Attenzione al suono è valido. Ehi, bravissimi, partenza regolare. Sono riuscito a vedere il contatto a modo sul rettilineo. Allora, abbiamo il comando Carboniani seguito dai movili, rabiti, tramelli, gruppi, pinuzza, fabbri e ferro. Rivedere dopo a fine gara il contatto al primo giro sul rettilineo. Mi sembra a rabiti, non ho capito chi. Lo rivediamo a fine gara. Tante lotta per la seconda posizione tra i movili rabiti. Grazie. 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 Allora. Al Via. Berselli, Rabitti, Ferri, Sassi, Campana, Giliotti e Del Vecchio. Pagliotti è Del Vecchio. ai recuperi Campognani, Movilli, Tramelli, Gruppi, Fabri e Piluzza Grazie a tutti 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 Numero 4 Grazie a tutti 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 Secondo Grazie a tutti 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 Buoni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti